Bentornati all'appuntamento con la settimana in tv. Quest'oggi con il Vescovo abbiamo parlato del primo novembre, una festa particolare. Ci spiega il perché. Ricordiamo tutte le persone che ce l'hanno fatta a vivere da cristiani. Vivere a cristiani non solo è bello, è possibile e poi da frutti, da effetti, succede qualcosa, le persone si trasformano. Quando uno raggiunge la pienezza della vita cristiana si trasforma e manifesta che vive ben oltre la morte, non solo è capace di aiutarci, sostenerci, guardiamo cosa accade a Montenero. Ma il primo novembre cercheremo anche di fare un'altra cosa. Faremo il pellegrinaggio a Montenero dei giovani. Tutti i ragazzi che si stanno preparando alla cresima sono invitati con i loro genitori, padrina, a fare questo pellegrinaggio a Montenero. Ci ritroveremo nel pomeriggio e vivremo questo momento verso Maria e cercheremo anche di approfondire soprattutto una cosa. Cosa vuol dire diventare cristiani? Essere cristiani vuol dire vivere la carità, ma vuol dire anche nutrirsi, partecipare alla Santa Mesa, nutrirsi dell'eucaristia, dacci oggi il nostro pane quotidiano, vuol dire essere solidali, impegnarsi nel servizio. Qualcuno penserebbe di poter accedere ai sacramenti senza la messa, senza una testimonianza di vita cristiana, con un po' di catechismo. È evidente che sono sciocchezzuole. Dice non siamo al discount dei sacramenti. Chi la pensa così, prima di tutto, non è cristiano, non conosce i Vangeli e poi scambia le parrocchie per un discount. Chi vuole essere cristiano, chi vuole vivere da cristiano, si impegna e porta avanti con coraggio una sua testimonianza, come quando ad esempio si impegna per lo sport, in cui non rinuncia certamente all'allenamento o alle partite e invece si vorrebbe, per l'impegno ecclesiale, si vorrebbe ben altro, si vorrebbe, come dicevo prima, un discount in cui basta una generica partecipazione. Non siamo alle Olimpiadi, siamo in una vita di fede che vuole condurre la santità. E a proposito dell'incontro del primo novembre, Elisa De Marco ci spiegherà come si svolgerà invitando anche tutti i ragazzi a partecipare. Anche quest'anno, il primo di novembre, ci sarà la festa Giovanni di Ocesana. Ti aspettiamo alle ore 15.15 al piazzale Giovanni XXIII. Dopodiché saliremo su al santuario o in aula mariana, nel caso dovesse piovere, e dalle 15.40 fino alle 18.30 ci saranno tantissimi momenti belli di condivisione. Ci saranno balli, canti, giochi di magia, testimonianze e ci sarà anche un bellissimo momento di preghiera, adatto anche per i più grandi, guidato dal nostro Vescovo Simone Giusti. Quindi noi ti aspettiamo, ricordatelo, il primo di novembre alle ore 15.15 al piazzale Giovanni XXIII per la festa Giovanni di Ocesana. Per chi volesse conoscere meglio Mago Magone, alias Padre Adriano, può guardare l'ultima puntata di Si fa sera, parliamone, dove ci spiega la santità attraverso la magia e con i giochi di prestigio. Lunedì 31 ottobre alla chiesa di Santa Caterina un concerto davvero speciale. Ce lo presenta Elisa De Marco. Il 31 di ottobre alla parrocchia di Santa Caterina al quartiere Venezia Livorno alle ore 21.15 ci sarà un bellissimo spettacolo, un concerto fatto da me, Elisa De Marco, più altri amici. Ci saranno Don Peppe e Charlotte che vengono da Torino e Romilda che viene da Cosenza e canteremo per pregare e lodare insieme il Signore. A seguito di questo concerto ci sarà una bellissima adorazione eucaristica e quindi noi vi invitiamo a venire per pregare con noi il 31 di ottobre alle ore 21.15 nella parrocchia di Santa Caterina a quartiere Venezia Livorno. Vi aspettiamo! Nel giorno della commemorazione dei defunti, mercoledì 2 novembre, questi saranno gli orari delle celebrazioni presedute dal Vescovo. Alle 9.30 la messa alla chiesa di Nostra Signora di Fatima, alle 10.30 la benedizione al cimitero di Santa Giulia, alle 11.30 la benedizione alla tomba di Ciampi al cimitero della Misericordia, alle 15 la messa al cimitero della Purificazione e alle 16.30 la messa al cimitero della Misericordia. Come un medicamento sugli occhi è stato questo il titolo del primo incontro di formazione dei catechisti della Diocesi di Livorno con la presenza di Don Mario Testa. Sono infatti iniziate con il mese di ottobre gli appuntamenti di approfondimento e formazione per tutti coloro che si occupano di catechesi nelle parrocchie. Gli incontri che vedono in programma conferenze sulla piattaforma Zoom e Momenti in Presenza sono rivolti a tutti i catechisti, sia quelli impegnati nell'iniziazione cristiana sia quelli dei sacramenti degli adulti. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili sul canale YouTube della Diocesi. Tre occasioni per meditare e per pregare. Una volta al mese al Santuario di Montenero alle 18 si terrà l'allezio divina dedicata in particolar modo ai referenti sinodali, mentre alla parrocchia dei Sette Santi l'Alezio che si terrà alle 19 sarà dedicata al percorso tenesiano per la preghiera. Infine alla parrocchia di Saiacopo alle 18.30 il tempo di meditazione sarà incentrato sulla conoscenza dei padri fondatori. Il calendario con tutti gli appuntamenti delle tre lezio è disponibile sul sito della Diocesi di Livorno. Inizierà domenica 30 ottobre il cammino dedicato alle famiglie della nostra Diocesi. Maria Teresa Nocilli dell'Ufficio Famiglia ci spiega in che cosa consiste. L'Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi propone anche quest'anno una serie di pomeriggi di spiritualità familiare. Sono occasioni belle per approfondire la nostra fede, per condividere, per confrontarci. Cominceremo domenica 30 ottobre e rifletteremo sulla nostra capacità di convertirci. Perché è fatico tanto a convertirmi? Sant'Agostino dice si convertono coloro a cui Dio parla nell'intimo. Noi domenica cercheremo di lasciare spazio al nostro intimo perché Dio possa parlarci e lo faremo attraverso la visione dei quadri del Caravaggio guidati dal Vescovo Simone. Ci troviamo in Vescovado alle ore 16 alle 4 e alle 18 e 30 termineremo con il Canto del Vespro. Quest'anno è stato organizzato anche un servizio di intrattenimento per i bambini e quindi si può partecipare con libertà. Chiediamo soltanto di comunicare la propria adesione anche per poter organizzare gli spazi e per poter organizzare appunto il servizio ai bimbi inviando una mail all'indirizzo famiglia centro Livorno chiocciolagmail.com La povertà e le sue declinazioni nell'economia globalizzata. È questo il titolo del convegno che si svolgerà venerdì 4 novembre alle 10 e 30 presso la parrocchia di Nostra Signora di Fatima organizzato dall'Università di Pisa al Dipartimento di Scienze Politiche e dalla Fondazione Livorno. Sarà possibile partecipare all'evento grazie anche alla possibilità di collegarsi dal rimoto al link indicato. Ecco gli appuntamenti nella diocese di Livorno per la prossima settimana. Sabato 29 ottobre alle 15 e 30 il convegno dei ministranti alla Casa Spiritualità Gabi. Domenica 30 ottobre alle 15 e 30 il ritiro Usmi all'Istituto Maria Maddalena. Alle 16 il ritiro delle famiglie alla Casa Spiritualità Gabi. Lunedì 31 ottobre alle 21 e 15 il concerto alla Chiesa di Santa Caterina. Martedì 1 novembre alle 15 e 15 al Santuario di Montenero il Pellegrinaggio dei Giovani. Di 2 novembre alle 9 e 30 la messa alla Chiesa di Nostra Signora di Fatima. Alle 10 e 30 la benedizione del Cimitero di Santa Giulia. Alle 11 e 30 la benedizione alla Tomba di Ciampi al Cimitero della Misericordia. Alle 15 la messa al Cimitero della Purificazione. E alle 16 e 30 la messa al Cimitero della Misericordia. Venerdì 4 novembre alle 10 e 30 la Chiesa di Nostra Signora di Fatima il convegno dal titolo La povertà e le sue declinazioni nell'economia globalizzata. Domenica 6 novembre alle 9 la messa al Santuario in diretta su Granducato TV preseduta da Monsignor Giusti. Alle 11 alla Chiesa di Sant'Anna a Quercianella la messa e le Cresime. Grazie per essere stati con noi anche in questa puntata. Non dimenticate l'appuntamento con Sifa Sera Parliamone in diretta su Granducato TV martedì alle 19 e 30. Noi con le notizie dalla Diocesi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!